Prima di iniziare a guardare il video iscriviti al canale e metti mi piace. Irina Lucidi, la coraggiosa madre delle gemelline Alessia e Livia, il cui destino drammatico ha scosso l'opinione pubblica anni fa, ha trovato nel tempo la forza di affrontare il dolore parziale dedicandosi ad opere di beneficenza a favore dei bambini bisognosi. La storia delle due gemelline, tragicamente con Clasi con la loro misteriosa scomparsa e il successivo suicidio del padre, continua a essere avvolta nel mistero oltre do anni dopo gli eventi. La fuga sospetta dell'uomo tra Svizzera, Francia ed Italia ha alimentato speculazioni su un possibile coinvolgimento nel terribile delitto. La madre Irina, pur vivendo il dolore straziante della perdita delle sue figlie in modo disumano, ha deciso di trasformare la sua sofferenza in un impegno sociale. Intervistata dal Corriere della Sera, ha rivelato di aver fondato la Messing Children Foundation in Svizzera insieme ad alcuni amici. L'obiettivo della fondazione è prevenire che tragedie simili si ripetano e onorare la memoria delle sue... bambine. Irina Lucidi ha trovato la motivazione per andare avanti nella speranza che il destino delle sue gemelline non si ripeta mai più. Le mie gemelline sono sempre rimaste qui accanto a me. Ce le ho negli occhi, sulla pelle. Trasmettono la vitalità che solo i bambini sanno come e dove trovare. La madre coraggiosa si è impegnata a colmare il vuoto lasciato da Alessia e Livia, cercando di fare del bene nel mondo in loro memoria.